Un pratese di 34 anni, Mirko Mocera, è finito in carcere in quanto ritenuto l'autore di ben nove rapine messe a segno in città tra il maggio del 2015 e il febbraio del 2016. L'uomo pregiudicato utilizzava pistole, coltelli e in qualche caso anche bombe a mano per intimidire le vittime. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda sette dei nove colpi messi a segno ai danni di due farmacie, un supermercato, una tabaccheria e tre uffici postali. Per le altre due rapine, una alla farmacia di Filettole e una al supermercato Tuodì di Via Tirso, l'uomo è stato denunciato a piede libero perché non sono stati riconosciuti i gravi indizi. I sette colpi sono stati messi a segno con la complicità di un 35enne marocchino clandestino che potrebbe essere tornato nel suo paese dopo un periodo di permanenza in un CIE. Nelle ultime due rapine il bandito, oltre alla pistola, impugnava una bomba a mano. Nel primo caso, il 13 febbraio, al supermercato Tuodì l'ha solo mostrata. Nel secondo, alle poste di San Giorgio a Colonica. Anche strappato da linguette ha tirato la bomba mentre fuggiva. Poi la bomba era inerte, però comunque è solamente un fatto grave. Si trattava di un residuato bellico. In questa rapina il 34enne è raffiancato da un complice su cui sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile. È escluso che possa trattarsi del marocchino con cui sono stati commessi i primi sette colpi perché il giovane ha lasciato l'Italia. Il 34enne è risultato irreperibile fino a ieri, poi con il fiato sul collo della polizia si è presentato in questura, accompagnato dal suo avvocato a cui la squadra mobile aveva già fatto presente cosa pendeva sulla testa del suo assistito. Le indagini sono state condotte con l'utilizzo delle immagini, delle telecamere di videosorveglianza, delle attività rapinate, con un'intensa attività di appostamento degli uomini della sezione antirapina e con i rilievi della scientifica che hanno permesso di avere più riscontri su impronte digitali e abiti indossati dai rapinatori durante i colpi. Importante anche i riconoscimenti effettuati dalle vittime delle rapine. Il capo della squadra mobile, Francesco Nannucci, sottolinea quanto questa operazione sia una risposta concreta all'allarme sociale che tali episodi avevano creato in città. La dinamica è molto violente e che sicuramente sono state per Prato un momento di allarme sociale importante.